Si è risolto in modo migliore, la manovra oggi pomeriggio sarà in Parlamento, sarà una manovra che ridurrà la pressione fiscale del nostro Paese per molti cittadini con il taglio del pugno fiscale. Per quanto riguarda l'acetolare per gli appartamenti che vengono affittati, c'è soltanto tal secondo appartamento che vengono affittati nel sindaco proprietario, quindi non sarà per tutto soltanto tal secondo importo.